Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Warframe e vedo un po' cosa ci ho portato ragazzi quest'oggi sul nostro buon carro vecchio Broketeer ci troviamo anzi sulla stazione di Mercurio beh detto ciò vediamo un po' cosa ci ho portato una pettorina prisma sta a voi ragazzi scese poi no costicchia sono 265 Ducati ragazzi e non sono pochi eh ma per una cifra più o meno simile se abbiamo danno arsi critico per l'refuge a pompa che conviene già di più se non ce l'avete ovviamente se ce l'avete potete puntare a benissimo il danno critico al si per la pistola mod interessa diarsi assolutamente consigliato all'acquisto anche se questa è più diciamo così limitata a un tipo di armi mentre questa ha ogni secondaria praticamente anche se vabbè sono poche le armi non sono pistola quindi ok tra l'arsi c'è Broketeer va a fuoco non so perché se la qualcuno si avrà qualche pima detto ciò adesso abbiamo anche un danno elettricità al si fucile a pompa consiglio ovviamente prima di prendere queste due dopo ragazzi di prendere questa qua e per ultimo e non un ultimo anzi di mod prime abbiamo problemi continuiti per aumentarsi la durata e la abilità anche questa qua ragazzi è molto buona e consiglio l'acquisto poi ragazzi abbiamo una salina danno a Demius che consiglia sono 600 Ducati non è il massimo ma esteticamente però insomma sempre da voi a decidere se ragazzi abbiamo una skin prisma per la mantis c'è l'arsi ma io sconsiglio l'acquisto e poi sta a voi a vedere anche se sono 230 quindi sono 230 platino sono un bel po' lo stesso 400 platino per una skin anzi per la laser ragazzi abbiamo la pose di blocky tear costa solo un milione di crediti a questo ragazzi non vi cambia la vita anche se non ce l'avete non vi cambia la vita abbiamo ragazzi poi un'arma prisma no un'armagong perdonatemi il quale ragazzi un moltiplicitore ragazzi critico del 2,2% una probabilità di effetto del 59% è una probabilità di critico del 18% sicuramente ragazzi un'arma di effetto però ha il suo il suo perché anche se fa danno di esplosioni che male potrebbe non fare anche se probabilmente si fa esplodere i piedi ma dettagli poi se abbiamo la prova che un'arma anzi che ha un 32 probabilità di effetto è un bellissimo probabilità di critico ragazzi del 14% anche questa qua arma di effetto come l'altra anzi però danno critico per si potrà probabilmente usare per aumentare i danni io ho notato ragazzi con le ultime aggiornamenti del corpo a corpo potete aumentare la velocità io ho notato anche un po' il danno critico e le dà di santa ragione ai vostri temici se tu adesso abbiamo il pacchetto dell'armatura EOS consigliatasi l'acquisto se ovviamente ragazzi lo volete sono 2,85 platio e vi danno bensì 6 pezzi non ne sono 5 però ok consiglio acquisto poi ragazzi abbiamo gli archini di broketeer che sono sono nuovi ma non sembrano no da freddole abbiamo una skin per exodi o comunque altosiamo a quest'arma acquisto si sta a voi però io insomma spendere tra gli sommi di ducati si io ve lo sconsi anche se sono 325 e 380 abbiamo una skin immortale gli archi di mesa 550 platino sta a voi ragazzi scegliere l'acquisto abbiamo anche una skin immortale per zephyr anche qui sta a voi l'acquisto sono queste carucce la stessa si vale per la skin cambia un sede del cubron le immagini si sembra che io come ho detto si sta a voi vedere se la volete cosa più importante usate il vostro cubron sulla nave se no se non lo usate lo prendete per collezionismo ma c'è altro da prendere in questo momento abbiamo ragazzi anche i due spallacci prisma neperim sta a voi potete divertirvi a farli il vostro warfare mi sembra un pittistrello più o meno perché non è che aiutino tanto se ragazzi abbiamo la sugrata per dare una colpa a corpo io ce l'ho ragazzi è carina costa 100 ducati e caruccia quindi sta anche qua grazie a voglia come vedete però fa la sua figura o quel colore che poi volete dare di fuoco ragazzi abbiamo anche i due oggetti ornamentali per la nostra lise cioè per il nostro orbiter ovvero questa stella spina chiamata come volete e questo coso che non so se abbia effetti particolari costichero entrambie 100 ducati e pesta inoltre ragazzi cosa molto interessante che uscita ragazzi i set del Akelex insomma ragazzi due pistole l'ex 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 doppia ottenibile soltanto acquistandoli da queste reliquie dal nostro munizio mazicaro si carano barchitir se volete prendersi fatelo con degli amici così avete anche più proprietari successo di prendere tutti e due i pezzi e poi ragazzi abbiamo spettro l'ex bombard questo consiglio l'acquisto ovviamente e anche la fine ragazzi del nostro buone caro inolus per questo episodio ragazzi di warfarm è tutto per me dire questo episodio grazie al nostro buone caro vecchio è tutto e noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti